Andria, partita ieri, la ventesima edizione della settimana di San Tommaso, una tre giorni con altrettanti appuntamenti legati dal tema legami comuni. Ascoltiamo le interviste. Don Mimmo, allora, il tema di questa ventesima settimana di San Tommaso è legami comuni. Allora, qual è il filo rosso esattamente che percorre, che attraversa tutti questi tre appuntamenti in questi tre giorni? Il filo rosso è un grande tema, è il tema della comunità. Lo spunto di partenza proviene in realtà da alcune parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Italiana, Mattarella, in occasione del messaggio di fine anno, appunto nel 2018. In quel messaggio il Presidente rimarcava quanto sia importante pensarsi come comunità e vivere responsabilmente, con impegno all'interno di una comunità. Edì siamo partiti per delineare questo percorso, anche guardando poi a quante volte il tema della fraternità, della comunità, ritorna anche all'interno del Magistero di Papa Francesco. Basti pensare a quello che il Papa dice, ad esempio, in Evangelii Gaudium, quando parla addirittura di una mistica del vivere insieme, del camminare insieme appunto come fraternità. Tutto questo ci ha fatto capire quanto il tema sia importante oggi più che mai, laddove soprattutto riconosciamo molte spinte ad un marcato individualismo, ad un egoismo di fondo. Professore, concretamente che cosa si può fare per realizzare questo progetto? Intanto andare a guardare le 400 buone pratiche che noi abbiamo censito con il cammino delle settimane sociali e vedere che già in molti territori le soluzioni sono state trovate. Per esempio, generatività degli anziani, che è una delle domande più grosse del nostro paese. Abbiamo delle buone pratiche spettacolari che sanno mettere assieme residenzialità e incontro tra le generazioni, penso a Cività Svite di Padova. Poi la generatività anche delle persone che hanno disabilità, tutto quello che si fa per i giorni e soprattutto tutte le forme di economia partecipata, dove gli amministratori lungimiranti sanno usare le energie della società civile per ottenere nella logica del principio di sussidiarietà dei risultati migliori di quelli che otterrebbero con delle iniziative dall'alto. E i giovani invece che spazio hanno in queste nuove comunità? Senz'altro, intanto, tutta l'economia civile cerca di creare più occasioni di occupazione, quindi evitare che i giovani debbano abbandonare i loro territori. E poi molte di queste associazioni, pratiche dal basso, forme di partecipazione, vedono l'impegno dei giovani. Penso dalle gestioni dei beni comuni condivisi, ai cash mob, alle associazioni che si occupano di consumo e di finanza responsabile. Uno dei fenomeni che sta coinvolgendo alcune città d'Italia è quello dei dissesti finanziari o dei predissesti. Allora, come porre una soluzione anche per una migliore gestione della cosa pubblica? Bisogna intanzitutto rimediare ai problemi che hanno fatto altri in passato. Le regole della buona gestione finanziaria sono sempre quelle, anche qui però, per esempio, sono molto interessanti le nuove forme di bilancio partecipato, cioè dove le amministrazioni costruiscono il bilancio assieme ai cittadini e quindi partono anche da quelle che sono le esigenze dei territori.